Giuro questo è stato l'ultimo giorno in cui abbiamo festeggiato il compleanno di fede Ma partiamo dall'inizio Nonostante la sera prima fossi andata a dormire alle 3 di mattina Ho comunque deciso di mettere la sveglia alle 7 e mezza Perché dopo tutto quello che abbiamo mangiato domenica avevo proprio bisogno di allenarmi E non c'era altra soluzione che farlo alle 8 di mattina Mi sono fatto una bella corsa sul tapirulano di mezz'oretta E poi sono passata ad allenare glutei e dorso Ho finito di allenarmi verso le 10 e poi sono tornata a casa per farmi la doccia Perché ho iniziato un trattamento con le fialette che devo fare a casa In modo tale da aiutare i capelli a crescere più forti Dopodiché mi sono fatta un trucco super leggero e mi sono vestita in questo modo E insieme a fede e una coppia di nostri amici siamo andati a Gran Roma Perché fede doveva cambiare la taglia di un regalo di compleanno E ne abbiamo approfittato per fargli un bel restyling da zara Sembrava un po' di stare nel programma di real time di ma come ti vesti Abbiamo fatto una pausa pranzo al volo in piadineria E poi siamo andati a ritirare le ultime cose necessarie per la festa Tornati a casa ancora c'era una bellissima giornata Quindi abbiamo addobbato tutto il giardino e il portico esterno Dato che eravamo 40 persone e le previsioni portavano bel tempo abbiamo deciso di farlo fuori Abbiamo preparato due caraffe di spritz e moito Accompagnate da pizzette e patatine E poi improvvisamente è venuto giù il diluvio universale Abbiamo comunque deciso di aspettare fuori che spiovesse Perché comunque eravamo riparati sotto il portico Nonostante ciò la festa è andata benissimo E anche se eravamo tante persone tutti di gruppetti diversi Tra qualche goccia di pioggia e la musica a palla siamo comunque stati benissimo Verso l'ora di cena poi ha finalmente smesso di piovere Che gli ha spento l'unesima candelina del suo compleanno Ma forse è questa quella con tutti i suoi amici e quella che l'ha reso più felice E alla fine della festa tra Vasco Rossi, Gigi D'Alessio e Andrea Sannino Si è trasformata in un karaoke strappalagno E ora si comincia a organizzare il diciottesimo di mio fratello Grazie a tutti